Signori, questo è Stray Souls, una sorta di Silent Hill Resident Evil che forse però fa schifo, ma se non altro è in Unreal Engine 5 Questa è la demo ragazzi, eh Ma quante... sembra ciccio merrino un po' lui Perché cammina col tesco in avanti? Va bene, va bene, dai, non partiamo prevenuti Va bene, ok, allora, graficamente come lo vedi? Beh, Unreal Engine 5 Fa così Sì, bella la vegetazione, insomma Questa non sappiamo se collocarlo nella nostra serie ma fa schifo Eh sì Cioè giochi che somigliano ad altri giochi ma fanno cacare Oppure nelle Meraviglie in Unreal Engine 5 Secondo me va più nella prima Sai, fatto suo per essere una produzione piccola E soprattutto è una alfa questa qui Ora vediamo di capire perché lui si trova in questo luogo schifoso Vabbè, sembra una qualsiasi zona di periferia di Catania Apriamo Non lo può aprire, deve capire perché Comunque il taglio di capelli è discutibile E appunto, sembra ancora in una zona di periferia di Catania Diciamo che poi l'erba che salta fuori dal cemento, no? Sì, sì Dall'asfalto, non lo so Esatto, il movimento dell'erba è pregevole Però effettivamente sembra come E guarda quel corvo come si è appoggiato su nulla Ma è volvola, quindi è giustificato È giustificato Ah, il cimitero io non me lo farei mancare in mezzo Giusto, giusto Questo possiamo aprirlo, no? No Ma come non si corre? Perché dovresti correre? Perché no Hai fretta? E tra l'altro, vedi, i corvi si poggiano su nulla Vedi, anche quello va Ma non mi sembra un posto da cimitero Nel senso Vedi quel corvo, è appoggiato sul niente Oh, cosa? Sono un po' di artificio Molto bene Molto bene Molto bene Una cosa bella c'è E come solo niente reggono Come mio padre E ogni volta lui non sente Dico, papà, tienilo meglio Le espressioni facciali? Thank you No, carine, no, no Fatte bene le espressioni Dice, probabilmente uno dei ranger ha lasciato le chiavi nella macchina Non credo sia la sua macchina Ah, ora puoi sprintare Sì, dobbiamo rimuovere questi carrelli per poter Ecco, se non li prende davanti Madonna come si muove pesanti Ma perché non li prendi con le mani? Ma sono dei carrelli Che stai a fare? Perché all'Ara Croft? Io immagino questo che fa la spesa così tutto il tempo Tra le varie corsie del supermercato Ma poi lo sposta verso in avanti Ah, ecco, questo lo dirà In realtà non li sta afferrando No, va bene Non pretendiamo poi tantissimo No, no, vabbè, dai Alla fine stiamo scherzando Ho capito, però come li hai messi Che adesso non posso Sì, che erano li messi là perché Spacca, spaccia Sono a Fabrice È bloccato È spacca È chiuso, è chiuso Spaccano, infatti Niente Deve andare nell'altra macchina Quella lì Che è lì Ha detto che possiamo correre adesso? Sì, sì, esatto Con L1 Invece in realtà Semplicemente Così camminiamo Così corriamo Ok La corsa rimane attivata Altri carrelli Perché è un po' di varietà Diciamo Ma il problema fondamentale Dei carrelli È la scossa È la scossa Quella si prende Dieci volte su dieci È la scossa È la vera cosa horror Di questo gioco Infatti non prende Lui infatti Li muove così perché Ha paura di prendere Tiene la scossa Niente Devo trovare un modo Per aprirla però Perché prima mi diceva È chiusa e basta Invece questa Deve trovare un modo per aprirla Cerca nell'area E Suggerimenti su come Entrare nel veicolo Tipo spaccando il vetro Nell'area dove Ma che dice Uno scassinatore provetto Che lo fa per noi Con soli dieci dollari Ecco qua Qua c'è un suggerimento No Dice Però adesso non mi interessa Non mi interessa la spazzatura Normalmente sì Avrei fatto un banchetto E qua Ecco C'è una lettera Ah ok Le chiavi della macchina Sono nascoste nel solito posto Che è una delle tombe Con la croce Visto che potresti non leggerlo tu Ma uno che potrebbe essere il protagonista di questo gioco E che quindi non lo sa Giustamente glielo devo spiegare in maniera Didascalica Perché dovrebbero nasconderla in una tomba? Cioè Non lo dice Ma la risposta è sempre una controdomanda Però perché no? Questa questa Ma questa è palesemente a forma di croce Ma che gli ha lasciato la caccia al tesoro Fammi capire Allora c'è una pistola Ma ti rendi conto una Nascosta dentro un cestino della spazzatura? Ma ti rendi conto un wall text In una croce? Ok La pistola è nascosta in un cestino della spazzatura Sì ma La chiave? Allora cos'è che dobbiamo trovare? Una tomba a forma di coso? Di tomba I movimenti ragazzi sono di un rigido E di un uncomfortable Che non ha proprio senso Cioè Si muove per i fatti suoi Niente da fare anche questo cestino Però vediamo qua dentro No perché c'è il vapore Lui così si brucia Però fa jogging Fa jogging Mi sa che ci sta No Dice proprio Non voglio avere niente a che fare con Le tre schemi I cestini dell'immondizia Ma con i corvi che non si poggiano Se non sul nulla sì Per adesso capito? Dopo dopo ci finirà a rovistare nell'immondizia Ma che bello Non vedo l'ora Però tomba a forma di croce non fa Ma forse quella? Queste? Ah ce ne sono altre qua Guarda Ma qua hai voglia Hai voglia di tomba qua Però giustamente Non ci passa Ragazzi ma come? Proviamo a passare Eh no c'è la macchina Eh no È un uro invisibile I carrelli Come fai ad aprire? Come si fa? Look around with the camera To find the key E quindi quella Qua è Mamma mia Posso dire che siete dei merdoni Sviluppatori? E che queste cose Però anche un po' sceminoide Ah adesso Quindi adesso gli interessa Cercare nel trash can Adesso cerchiamo Nelle Ma trash can Si dice Cestini dell'immondezza Eh dai Vediamo questo Ma cosa ha fatto signori Un giro su se stesso Ah dai apri Apri sto sportello Apri sto Va bene Ti sei fatto compenetrare Ma va bene così Abbiamo una macchina Ok No chi è E le chiavi che hai tu? E le chiavi che abbiamo appena preso? Cosa? 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 Eh Aiuto Aiuto Liberatevi Mamma Mamma mi hai lasciato in macchina No ragazzi Oh Dio Ma perché fanno videogiochi? Le espressioni sono belle ma solo quello raga Cioè Non lo so Ah forse quella chiave Cosa? Cosa fa? Sbadiglia? Sto sbadigliando Forse quella chiave era per disabilitare la consistenza della vettura Comunque hai fatto questo allora E ci siamo bloccati Mi sa Come? No 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 esce esce Bellissimo questo momento ragazzi Sì Vediamo vediamo vai vai No 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 raga Stiamo sprecando pallottole Perché allora primo scusa tu che hai fatto? Ma cosa fa? Non si capisce Ma dove si è seguito? Forse quella non gli piaceva C'era buzza di me L'ha trovato Ah the play Ah no no Dovevamo trovare play Non si Mica mettere in moto la macchina Ah ok Dovevamo trovare le chiavi del parchetto Qua non si compenetra Qua non si compenetra Qua non si compenetra Qua non si compenetra Entriamo nel parchetto va Ma comunque quest'idea malsana di stare in questo posto Qualsiasi sia la ragione Non c'è giustificazione ragazzi Ma dov'è ragazzi? Io starei in questo posto solo se mi dicessero Ci stai Oppure Che ne so Ti scombiniamo il cable management E allora Ahia E allora sì E allora sì Mi sono stancata solo a vederlo Con una cara Poi si incastra su ogni cosa Che neanche ha consistenza Però la macchina la compenetra Però la macchina la compenetra Esatto Cosa? Perché fai i giri su se stesso? Attenzione alla cena Come? Ah così? E' uno dei bambini che gioca Uscito, uscito, uscito Prendi la pistola I bambini non devono stare qua a quest'ora Voi uscite Andate a casa Ma non ti sbrighi a prendere Hai sparato nel frattempo di lato Madonna, midra la mira Madonna Midra Ma quante sono? Entra nel parco Va, fatti la scivola Ma corri più veloce Cretino Fatti la scivola Fatti E' morto? Vabbè, quello sì Adesso l'altro Cosa? Ma che? Gli spari o che cosa? Ma se no ti puoi riparare nella casetta Puoi ricaricare? Ti puoi riparare nella casetta Perché non ricarica? Ha ricaricato Ma quanti ce ne sono, santo cielo Secondo me devi scappare Ragazzi, scusate Ma la mira fa schifo Fa schifo? La mia mira La tua o il gioco L'ha fatto scoppolare quello? Cioè, che proiettile gli hai? Vai, ricarica Allora, midra Fa schifo la tua mira O effettivamente ci sono problemi di... Eh, entrambe Ma perché vai in avanti? E' stupido I movimenti sono fatti malissimi Senti, sparare al tiro Ma, no, vabbè ragazzi I movimenti sono... E' orribile Sono... Ma come salta? Ma che volano? Fatte la giostra Vai, vai In testa Praticamente Sono loro stessi A cavallo del loro scorroto Che ha preso forma Poi esplodono Beh, troveranno un bel casino Domani i bambini Ah, qui ho trovato il... Il coso Che è? Per prendere sta ruota Che cacchio di me niente ha fatto? Perché è Michael Jacksonico? Non lo so Cosa fa? Tipo pinta di... Non lo so I movimenti sono imbarazzanti in realtà Vacci di Pipe Room Stavolta possiamo interagire Abbiamo la manovella Questo è molto Resident Evil Style Prendi una manovella Per... Ok Dobbiamo risolvere il puzzle E' molto Resident Evil Style Più che Silent Hill Ok E uno? No, questo deve stare sopra Ce l'hai fatta Ce l'ho fatta Vai, vai Che cacchio te ne vai? Ah, no, non è questa È quella di qua Ah, vai nel tunnel sotterraneo Fino al cimitero E dico Cosa? Cosa era? Sì, ma... Sì, ma io non ho più munizioni E vabbè, magari sono ragionevoli Se scendono a patti E magari se mi fanno trovare delle munizioni Se te le danno loro stessi Ok, adesso puoi spararmi Sarebbe ottimo Ma... Mamma mia! Ok, c'è stato un minimo di jumpscare No, non ci voglio giocare più Ah, questo di notte si gioca No, raga, non ci voglio giocare più I jumpscare non li voglio A me fanno ridere i jumpscare No Cioè, all'inizio mi danno quel guizzo Poi però rido Mi danno fastidio To be content Ma anche no Abbiamo finito la demo Sono contento che abbiamo messo un punto a questa cosa Non vedo l'ora che esca la versione finale Infatti, lo vuoi aggiungere alla tua wishlist? No, no, signori Grazie C'è di peggio, eh C'è di peggio Però magari me lo devo ricordare cosa Non mi viene in mente Signori, questa era una puntata della nostra rubrica Non so quale Sì, penso fa schifo Cioè, quello... Esatto, sì, sì, sì Però, vabbè, insomma, ci si tenta Signori, grazie Alla prossima, grazie Non vi spaventate, James Care Che poi fa male Ciao 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 Grazie per la visione!